Intanto volevo vedere con te quello di cui stiamo per parlare, però intanto come ti ho detto ti ringrazio perché vedere tutto quello che vedremo adesso e le cose che vi siete dette, soprattutto anche quelle che dirà Eva perché non so se tu hai ascoltato quello che ha detto nel confessionale, è proprio luce per gli occhi di tutti secondo me quindi sono proprio anche un po' emozionata. Allora vediamo insieme di che cosa stiamo parlando. Ma il Petrosino l'hai portato sì o no? L'hai trovato? Ciao Eva! Dio me lo capire! Sì, scusate! Ma Eva è l'amore mio, è una simpatia, è il cima a bue della mia vita. Goditi stasperata, goditi Eva, goditi il fuoco, goditi. Buongiorno! Tutto bene? A te soprattutto! La vita è bella! Eh, ti credo! Eva, quando è stata nei momenti bui della sua vita, ha preso, ha reagito, ha avuto la forza di cambiare completamente la sua vita. Ragazzi, mi sembro scema, ma sono scema, sono, sì, amorevolmente scema. Hai! Noi! Grazie a tutti.